Allora, Cleaning, che cosa vorresti per il tuo compleanno se potessi scegliere tutto ciò che desideri? Ah, qualunque cosa io voglia. Sinceramente non mi viene in mente niente al momento. Ma com'è possibile? Se fosse stato il mio compleanno, io avrei chiesto degli pneumatici fiammanti da corsa. Io ho una palla nuova. Nuovi francobolli da collezione. Sono tutte ottime idee. Io vorrei... Una nuova spazzola. No, di nuovo. Lo hai ricevuto l'anno scorso e quello prima. E credo anche quello prima ancora. Perché chiedi sempre lo stesso regalo ogni anno? Sì, infatti, se non ti viene in mente niente di diverso, allora sarà meglio lasciar stare. Per tutti i volanti, non credo di poter pensare a niente con tutta questa pressione addosso. Ci dispiace, Cleaning. Perché non ti prendi un po' di tempo per riflettere? Torneremo più tardi. Oh, d'accordo. Cosa mi piacerebbe ricevere? Cosa mi piacerebbe ricevere? Oh, non mi viene in mente niente. Oh, non mi viene in mente niente. Guarda che gomme nuove! Forse dovrei scegliere queste. Vedo che hai notato le gomme nuove. A Spooky piacciono molto. È già passato un paio di volte. Spooky le vorrebbe? Fantastico! Signor Wheeler, vorrei comprarle, per favore. Ottima scelta! A Spooky piaceranno davvero moltissimo. Ora devo capire cosa farmi regalare dagli altri, però. Aspetta! È quello che credo che sia! Wow, delle palline rimbalzanti! So giusto a chi potrebbero piacere. Ah, queste palline rimbalzanti hanno il nome di Brunner scritto sopra. Sarà così contento! E poi ho trovato questa bella cartolina per la collezione di posti. È proprio il mio giorno fortunato. Oh, no! Che sbadato! Dovevo pensare a qualcosa per me. Sarà meglio che mi sbrighi. Tra poco farà buio. Non lo so. Per qualche strana ragione riesco a pensare solo ai regali che vorrebbero i miei amici. Oh, no! Ti prego, torna indietro! Sei un regalo speciale per posti! Torna indietro! Ah, ti ho preso! Oh! 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 Qualcuno mi aiuti! Non so come fermarlo! Cleanie ormai avrà scelto il regalo per il suo compleanno, vero? Vedrai, lo scopriremo presto. Qualcuno mi aiuti! Oh! Cleanie! Arriviamo! Qualcuno mi aiuti! Mi prego! Oh! Ellie! Cleanie! Cleanie! Roy, ecco il piano! Tu attiva la gru! Ellie, aggancia la corda di sicurezza a Cleanie! Amber, tu vieni con me! Dobbiamo trovare un punto dove poter posizionare il materasso! Ricevuto! Poli! Non riesco a trovare un punto dove sistemare il materasso! Sì, Amber, hai ragione! Non devi preoccuparti, io resterò qui! Sarò pronto a entrare in azione! Tu va pure! Roy ha bisogno di te! D'accordo! No, speriamo vada tutto bene! Cleanie, non ti preoccupare! Ti tireremo fuori di qui! Cleanie! Roy, sbrigatevi! Ci sono quasi! Cleanie! Cleanie! Beghi! Let's roll! Make way for Scooby! Vroom, vroom, vroom! Vroom, vroom, vroom! Make way for Scooby! Vroom, 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 vroom! 3, 2, 1! Oh! Can up the bus now you stop! Look left, right, look left, right Get on the bus, now you stop Look to the left and right 3, 2, 1 Take a right, now you stop Buckle up, buckle up Take a right, now you stop Everybody buckle up 3, 2, 1 Don't move around, stay in your seat In your seat Don't move around, stay in your seat 3, 2, 1 Here we go with Scooby La, 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 la Here we go with Scooby La, 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 la 3, 2, 1 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Grazie a tutti.